Non siete andati a chiamare gente? Ci sono. Io ringrazio Maurizio Sarri che ci ha accompagnato per strada con ardore, sentimento e abnegazione fino alla fine, ringrazio anche Cristiano che è il primo anno che lavora con noi e che sapevo già avere gli attributi ed è stata anche una grande rivelazione. Il mister non lo sa, Cristiano lo sa, giovedì perché ci abbiamo lavorato anche insieme, abbiamo lavorato affinché poi ieri diventasse un fatto effettivo, il primo acquisto del Napoli è stato formalizzato con Tonelli, ovviamente lo potremo formalizzare soltanto da lunedì quando si aprono le possibilità sia delle visite mediche che dei depositi in Lega, però è stato un atto e un gesto di fiducia perché anche se avessimo dovuto subire lo smacco impossibile, ma nel calcio voi sapete tutto è possibile di arrivare terzi e noi avremmo comunque rinforzato la squadra. E quindi così si andrà avanti e la rinforzeremo in maniera serena ma effettiva per poter essere competitivi in Europa visto che poi anche le squadre che voi ritenete fortissime perché se uno dovesse comprare i giocatori che suggerite voi, quelli che poi nelle altre squadre quest'anno mi sembra non abbiano reso un buon servizio alle squadre stesse, per cui voglio dire credo che Maurizio Sarri sia un grande esaltatore ed educatore di elementi che hanno delle loro capacità, lo ha dimostrato in delle categorie inferiori, l'hai dimostrato in delle società sportive che avevano meno disponibilità economiche del Napoli e quindi lo sta... Quindi è stato un buon servizio a tu compri nessuno... Ammazza... Questo vuol dire... questo vuol dire che quest'anno sono cazzi tuoi perché li dovrai... perché li dovrai far giocare tutti e 19... No niente io vi devo solo ringraziare, devo ringraziare... Eccolo qua usa questo... Ringrazio tutti perché oltre la città mi avete accolto bene anche voi, è chiaro ci sono state critiche ma come è normale se non vengono risultati, però mi sembra che il rapporto alla stragrande maggioranza di voi sia stato di ottimo livello e vi ringrazio per avermi accettato fra di voi così e colgo l'occasione per ringraziare il pubblico perché noi siamo arrivati i secondi ma il nostro pubblico è campione d'Italia. Grazie. Sì intanto grazie a tutti anche da parte mia, non avete quasi mai sentito la mia voce però penso che i confronti ci siano sempre stati e spero di esservi stato aiuto per il vostro lavoro, sempre in maniera corretta nei vostri confronti e della mia società. Volevo ringraziare pubblicamente il Presidente che mi ha dato questa grande possibilità, questo grande allenatore, uno staff fantastico, i medici, i fisioterapisti, coloro che sono dietro le quinte, i magazzinieri, quelli della sicurezza, io penso che raggiungere certi obiettivi penso che sia vero, veramente in merito di tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua, qui insomma stanno tutti lavorando per ben altro però credo che sia giusto che insomma il suo commento, il tuo commento parta da quell'espulsione di Gori, se hai parlato con un ragazzo che ti ha detto perché poi quello un po' ha condizionato tutto al di dato il risultato. Sì, buonasera a tutti intanto. L'espulsione di Gori, a saperla la verità perché uno dice una cosa e non dice un'altra, secondo l'arbitro ha detto qualche parola di troppo al direttore di Gara e secondo Gori ha detto qualche parola di troppo a un giocatore del Napoli, quindi certo è che fino a quel momento abbiamo tenuto bene il campo e anche cercando di impensierire il Napoli e è normale che da dopo l'espulsione la squadra sia abbassata ancora di più perché giocare con il Napoli già è difficile, 11 contro 11, figuriamoci nel fruttano America, quindi la squadra si è difesa cercando di non subire gol e purtroppo c'è stato il gol nel finale del primo tempo, nel secondo tempo idem, abbiamo cercato di contrastarli, abbiamo cercato di non subire il secondo gol ma non ci siamo riusciti, ma sicuramente per i meriti del Napoli. Peccato perché comunque eravamo venuti qui per cercare di onorare quest'ultima partita nostra in Serie A e sicuramente l'espulsione ha un po' rovinato tutto. Comunque faccio veramente i complimenti ai miei ragazzi per la stagione, per l'impegno e faccio anche i complimenti al Napoli perché hanno fatto una stagione incredibile e logicamente allargo i complimenti ad Iguain che ha fatto un qualcosa di straordinario. Se posso ne faccio un'altra. Uscendo dallo stadio, uno stadio che per quattro stagioni come ieri è già ricordato in sala stampa è stato il tuo stadio da giocatore, che cosa hai pensato? No, è sempre un'emozione particolare. Io ero tornato qui a Napoli da ex giocatore quando ho giocato nel Torino e tornarci da allenatore ha un sapore diverso. Ho apprezzato molto l'applauso che mi hanno fatto quando sono entrato prima della gara e ho contraccambiato. Ho passato quattro anni bellissimi qui a Napoli dove, come ho detto in settimana, mi hanno fatto crescere come uomo e come giocatore. Quindi è una piazza importante, una cornice di pubblico incredibile che dà sempre una spinta alla squadra a rendere al massimo come tra l'altro è stato fatto oggi da parte dei tifosi del Napoli. Quindi li ringrazio e faccio i complimenti anche loro perché anche gli striscioni che hanno messo nelle curve vuol dire che anche loro hanno fatto una stagione fantastica. Mister, buonasera. Domani ti riposi, giustamente, e ti chiedo da lunedì mattina cosa... Mi riposo lunedì. Ti riposi martedì. E in settimana... Cosa ci aspettiamo dalla prossima settimana, Mister? In settimana parlerò col Presidente. Cosa ti aspetti? Che intanto ci incontriamo per parlare e poi non appena avremo deciso faremo una conferenza stampa. Farò una conferenza stampa. Ciao, buonasera Roberto. Intanto i complimenti li meriti anche tu perché il Frosinone è stato ben guidato quest'anno, se l'è giocato fino all'ultimo. Quindi complimenti a te e al Frosinone. All'andata, mi ricordo a Frosinone, ti chiesi qual era stata la squadra che ti aveva impressionato di più. Mi dicesti il Napoli e tu dicesti che era la prima, la mettevi al primo posto fra quelle che avevi affrontato. Che cosa è la tua sensazione che ha impedito al Napoli di giocarsela fino alla fine per lo scudetto? E poi un giochino, se ti capita mai di sognarti su quella panchina che è attualmente occupata da Maurizio Sarri. Allora, il Napoli secondo me quest'anno ha espresso il calcio migliore. Ha fatto un campionato incredibile, non so adesso quanti punti ha fatto in più rispetto all'anno scorso, penso 18-20 punti. C'è la mano dell'allenatore perché pur avendo mantenuto i stessi giocatori dell'anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile sotto tutti gli aspetti, difensivo, offensivo, proprio come qualità di squadra, di gioco. E a fine campionato, dopo averle incontrate tutte per due volte, dico che il Napoli è sicuramente la squadra che ha espresso il miglior calcio. Cosa le è mancato? Niente, solamente che la Juventus ha fatto 26 partite, 24 vittorie, un pareggio e una sconfitta e quindi ha sbagliato praticamente niente. Forse quella partita a Torino persa nel finale a livello mentale ha creato qualche contraccolpo alla squadra, ma non vuol dire niente, insomma. È che la Juventus è andata ancora più forte del Napoli. Sul sogno è normale perché tra un po' d'anni, tanti perché sono giovanissimo, io ho 38 anni, quindi ho cominciato a allenare da 4 anni e ho ottenuto dei successi importanti che non pensavo neanche io perché 4 anni fa allenavo i ragazzi della Beretti. Quindi come da giocatore, quando uno comincia a giocare, il sogno è quello di arrivare a giocare in Serie A. Da allenatore lo stesso discorso l'ho raggiunto in brevissimo tempo, quindi allenare una piazza come Napoli dove ti dà emozioni incredibili è un mio sogno nel cassetto e prima o poi questo cassetto si aprirà. Mister, parlava del Napoli di Sarri che ha espresso per lei il miglior calcio del campionato, però anche il suo Frosinone ha dimostrato di voler giocare a calcio in ogni stadio, in ogni partita. Il Sassuolo potrebbe andare in Europa League ed ha espresso un calcio propositivo. Forse possiamo dire che il Napoli di Sarri sta guidando una trasformazione nel calcio italiano? Io ho visto diverse partite del Napoli e sinceramente le difficoltà che ho avuto nel preparare sia la gara dell'andata con scarsi successi sia la gara del ritorno non le ho avute nel preparare nessun'altra gara. Perché è una squadra che se li vai a prendere alti riescono ad uscire dal tuo pressing, se li aspetti come hanno fatto diverse squadre comunque riescono a trovare trame di gioco e creare occasioni da gol. Ti tolgono pur non dando la copertura difensiva perché comunque stanno molto alti, in profondità non riesci mai a prenderli e se li riesci a prendere qualche volta c'è il portiere che è molto attento ad agire da libero. Se stai stretto e chiuso trovano spazi sulle fasce con sovrapposizioni, se ti allarghi un po' riescono ad inserirsi con le mezzale. Quindi è una squadra veramente, secondo me, completa e faccio veramente i complimenti a Sarri perché è una squadra che gioca a memoria. Posto? Posto. Grazie. Buonasera.